Le lampadine fluorescenti o a basso consumo energetico possono avere dei lampi anche se gli interruttori sono chiusi, sono spenti, un problema lamentato da parecchie famiglie, alcune delle quali si sono subito rivolte allo sportello tecnologico del CODA con signor Pace, quali sono i casi che le sono stati segnalati, perché si verificano queste anomalie e come regolarsi. I consumatori già da diversi anni hanno deciso di convertire le proprie lampadine di tipo a incandescenza, quello con il filamento, con lampadine di tipo a fluorescenza, molte le ricordano col nome di lampadine al neon, però è improprio, sono lampadine a fluorescenza. Bene, tra queste lampadine di fluorescenza ce ne sono alcune che avendo un basso consumo basta anche un piccolo innesco elettrico per provocarne un breve flash. Questo breve flash in un ambiente con pochissima illuminazione viene notato dal consumatore, immaginiamo un caso estremo, la notte, questa lampadina è posizionata proprio sul vostro letto e all'improvviso si accende questa luce illuminante che ovviamente è fastidiosa. Come il consumatore può intervenire? Benissimo, nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo rilevato che la problematica è dell'impianto elettrico. Cari consumatori, fate verificare i vostri impianti elettrici perché il caso dell'incendio e il caso delle catastrofe nelle vostre abitazioni non sono poi così tanto lontani. Il problema elettrico è un problema che si riflette sulla vostra continualità e sui vostri consumi, pertanto chiamate un elettricista e fate verificare l'impianto. Nella stragrande maggioranza dei casi questo sarà sufficiente a risolvere il vostro problema, invece una casistica molto più breve era la lampadina ad avere un'anomalia, in quel caso riportate con lo scontrino, con la prova di acquisto, la lampadina al vostro negoziante e ve la fate sostituire.